e adesso praticamente diventa colore viola, spina di San Francesco perché si dice che San Francesco andasse a redimere i peccati sopra il monte Subasio che era la sua montagna e mentre passava praticamente questa gli tagliava praticamente le gambe e praticamente c'è questa simbologia diciamo che quando tagli i taffetti evidentemente è più una leggenda che altro però ecco quando cammini a calzoncini corti ti ha veramente un bel piacere, si si, di fatti uno gli dice ricordo bene come mai San Francesco dicesse